Salve amici del segreto, in questo video andremo a vedere un seminario molto interessante che Bob Proctor ha svolto riguardo le leggi universali della vita. Sono concetti molto importanti che vi insegnano ad agire in armonia con l'universo per ottenere quello che volete. Se non siete soddisfatti di quello che avete, molto probabilmente, inconsapevolmente, state facendo lavorare queste leggi contro di voi. Bob ci insegna come funzionano queste leggi e ci dà molti consigli importanti a riguardo. Cominciamo subito con il riassunto di questi concetti. Durante questa lezione Bob Proctor si concentra molto sul libro La scienza del diventare ricchi di Wallace Wattles. Questo era il libro sul quale si basava il film Il segreto di Rhonda Byrne. Il successo finanziario di una persona è una sorta di gioco e, come ogni gioco, ci sono delle regole da imparare, rispettare e sfruttare a proprio favore. Parliamo di una scienza e, come per ogni scienza, ci sono dei numeri. Ci sono delle leggi che bisogna rispettare. Quando rispetterete queste leggi, sarete parte del gruppo di persone che vivono il segreto. Le leggi della vibrazione e quella dell'attrazione vanno di pari passo. Potete attirare solo le cose con cui siete in vibrazione armoniosa. Sono entrambe leggi dell'universo. Il nostro cervello è in grado di cambiare le vibrazioni in modo consapevole, dando indicazioni specifiche, così come riesce a guidare i nostri movimenti. C'è la legge della relatività, che ci dice che una stanza non è né piccola né grande, fino a quando non l'ha comparata ad un'altra stanza. Abbiamo la legge della polarità, che ci dice che per ogni cosa esiste la parte buona e cattiva. Non esiste solo il bene e nemmeno solo il male. Un evento può essere percepito positivamente da una persona e negativamente da un'altra. È una questione di percezione. I bambini in Kenya sono entusiasti quando vanno a scuola alle 5 del mattino. Per un bambino europeo questa sarebbe una tortura. Abbiamo letto spesso una frase molto importante a riguardo Quando cambi il tuo modo di vedere una cosa, la cosa che vedi cambia. La percezione è una facoltà mentale. Poi abbiamo la legge del ritmo. È un flusso continuo. Il giorno che segue la notte è all'infinito. L'estate che viene sempre dopo la primavera. La legge del ritmo affligge tutto. Non sarete sempre in cima. Cadrete anche giù. Quando siete giù sappiate che salirete presto su. Quando siete su non vi montate la testa perché cadrete presto giù. Questo ritmo segue anche l'energia. Abbiamo la legge di causa-effetto. Questa è la legge delle leggi. Si raccoglie quello che si semina. Se non siete contenti di quello che state raccogliendo, concentratevi su quello che state seminando. Se volete ricevere di più, dovete dare di più. Se volete raggiungere l'obiettivo X, dovete entrare nella sua stessa frequenza. Se violate le leggi, non avrete successo. Queste leggi non sono state create dagli esseri umani e per questa ragione non possono essere cambiate da noi esseri umani. Diversamente dagli animali, noi abbiamo la possibilità di scegliere. Gli animali agiscono distinto. La possibilità di scelta, però, non ci libera dalle ipotetiche conseguenze delle nostre scelte. Se avete fatto un errore, non conoscendo bene tutte le informazioni, avete perso. Bob usa se stesso come esempio dicendo che inizialmente, oltre 50 anni fa, guadagnava 4.000 dollari all'anno e dopo un anno raggiunse i 175.000 dollari all'anno. Questo perché lui riuscì a capire le leggi universali della vita e cominciò a rispettarle. Queste leggi si possono rispettare o violare, ma non si possono cambiare. Proctor assicura che se rispettate queste leggi e agite continuamente, senza tirarvi indietro, riuscirete ad avere successo. Non ha importanza come, perché se le rispettate comincerete ad attrarre persone, circostanze, situazioni a vostro favore che vi porteranno verso il vostro obiettivo. Quindi non chiedetevi come riuscirete a raggiungere il vostro obiettivo, ma credeteci perché ci riuscirete. Se non studiate le leggi però, non avrete via di scampo. L'ignoranza in questo caso non viene perdonata. Se non le studiate, finirete per violare queste leggi perché, secondo Proctor, noi siamo programmati per violare queste leggi. Se non studiamo come funzionano e non agiamo in modo consapevole, inconsapevolmente tenderemo sempre a violarle. Bisogna studiare queste leggi come se foste degli scienziati, cercando di cogliere ogni aspetto delle leggi. Vediamo anche alcuni consigli importanti che Proctor ci dà durante il seminario. Queste leggi lavorano in due direzioni. Vi consegneranno quello che volete, ma vi consegneranno anche quello che non volete. Andrew Carnegie, il miliardario americano del settore dell'acciaio, diceva che ogni idea nella nostra mente, che sia amata o temuta, finirà per realizzarsi. Noi attiriamo quello che vogliamo con tutto il cuore, ma anche quello che temiamo. Lo abbiamo visto anche nel libro La legge della trazione di Esther e Jerry Hicks. Lì ho spiegato quella legge in modo molto dettagliato. Vi consiglio di dare un'occhiata a quel video, vi lascio il link in descrizione. Se noi pensiamo a qualcosa di cui abbiamo paura, entreremo in vibrazioni negative e finiremo per attirare l'equivalente fisico di quelle vibrazioni, ossia quello di cui abbiamo paura. Se non vogliamo quella cosa, dobbiamo ignorarla. Non dobbiamo pensarci e non dobbiamo dedicarle energia. I pensieri sono energia, hanno una forza talmente potente che possono realizzare l'oggetto pensato, specialmente se vengono avvolti da emozioni forti come la paura, l'amore, il desiderio ardente, eccetera. È importantissimo studiare bene queste informazioni perché, appunto, non conoscendole, non vi salverebbe dei problemi. Dobbiamo allenare la nostra mente con la convinzione che tutto quello che esiste nell'universo opera in base a queste leggi e che noi siamo parte di questo universo e non potremo cambiare queste dinamiche. Possiamo semplicemente sfruttare tutto a nostro favore rispettando queste leggi. Oltre al libro Pensa ed arricchisci te stesso, Proctor fa spesso riferimento anche al libro La scienza del diventare ricchi di Wallace Wattles. Abbiamo già visto entrambi i libri su questo canale. Pensa ed arricchisci te stesso, lo abbiamo visto addirittura da diverse prospettive. Ci sono molti video a riguardo su questo canale. Wattles dice nel suo libro Non potrete diventare ricchi facendo determinate cose, ma facendo determinate cose in un determinato modo, ossia rispettando le leggi e usandole a vostro favore. Coloro che faranno determinate cose in un determinato modo, in maniera consapevole o inconsapevole, diventeranno ricchi. Se non lo faranno, rimarranno poveri, a prescindere dal duro lavoro che impiegheranno. Bisogna rimanere costantemente consapevoli delle vibrazioni in cui ci troviamo. Ogni giorno prestate continuamente attenzione al modo in cui vi sentite, sapendo che i sentimenti offrono la consapevolezza cosciente delle vibrazioni in cui ci troviamo. Diventa facile controllare queste vibrazioni se fate quello che amate fare, se chiedete informazioni alle persone che hanno avuto successo nei settori in cui voi vorreste entrare in futuro. Sono consigli molto utili che ti consentono di dare costantemente il massimo senza sentirti affaticato. Se non sapete cosa amate fare, chiedetevelo ogni giorno, appena svegli. Magari prendete carta e penna e provate a pensare su carta, provate a scrivere tutto quello che vi viene in mente. Potete alzare le vostre vibrazioni positive innamorandovi dell'idea di poter aiutare moltissime persone attraverso quello che fate, il vostro lavoro, i vostri servizi, eccetera. Un altro consiglio è quello di mettere della musica di sottofondo nel vostro ufficio e di ascoltarla nei momenti in cui non vi sentite di buon umore. Scegliete il tipo di musica che può risolevarvi il morale. Questo aiuterà a cambiare le vostre vibrazioni. È difficile avere sempre vibrazioni positive, ma l'importante è cambiare subito quando notate di essere avvolti dalla negatività. Spesso questa negatività viene causata dalla paura o dalle preoccupazioni che si hanno riguardo a quello che gli altri pensano di noi. Quanto prima cominciamo a fregarcene, tanto meglio. Dovete imparare ad agire come se foste già la persona che vorreste diventare. Proctor consiglia il libro L'arte della recitazione di Stella Adler. Questo è un libro che può aiutare. Cercherò di fare un video a riguardo in futuro. Tutte queste informazioni sono importanti, ma richiedono, come sempre, pratica quotidiana. Non potete pretendere di avere i muscoli di un bodybuilder andando una volta all'anno in palestra. Dovete darvi da fare quotidianamente. Queste erano le leggi universali della vita di Bob Proctor. Le leggi che vi insegneranno ad agire in armonia con l'universo per ottenere quello che volete. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio della vostra attenzione. Ci risentiamo nei prossimi video. Ciao. Ciao.